Dati contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mondo è un posto duro, non tutti possono permettersi una vita agiata o anche solo del cibo. Per questo rubi, lo fai abbastanza raramente, quel poco che basta per poter tirare avanti. Questa è una giornata come le altre, se nel tuo territorio hai bisogno di qualche bel colpo di fortuna. Quando improvvisamente vedi la tua preda, una signora come tante altre, con la sua grande borsa ben in vista, si guarda intorno circospetta, a paura. Probabilmente appena ha ritirato i soldi. Tutti sono poveri qui, tutti devono stare attenti al loro denaro. Ma è sopravvivenza, quindi ognuno pensa a se stesso. Questione di secondi. Non appena sei abbastanza vicino scatti andandole addosso e le afferri la borsa cominciando a correre. Pesa. Sembra bella piena. Colpo grosso questa volta. La signora non prova neanche ad inseguirti. Cade in ginocchio e disperata inizia a gridare. La prego. È tutto quello che ho. I miei bambini devono mangiare. Il cibo dei miei figli. Non posso sopravvivere senza. La prego. Ho lavorato duramente per questo. È mio. Non puoi lasciarti condizionare. La fame supera i sensi di colpa. Continui a correre, ignorando le grida sempre più strazianti, l'ingombrante malloppo tra le tue mani. Quando sei abbastanza distante, finalmente ti fermi. È ora di controllare quanto hai guadagnato. Apri la borsa e quasi non riesci a creterci. Un cornato di vomito ti assale e la lasci cadere, inorridito. Varie parti di corpi umani, lacerati orribilmente, come strappati a mani nude e prevalentemente di bambini, riempono completamente la borsa.